Svolta imminente, il Taranto è a un passo dal cambiare proprietà. Ore frenetiche, si è discusso della presenza in città di intermediari legati a un fondo americano, sembrerebbe di investimento immobiliare. Ma sullo sfondo, o meglio in pole position, vi sarebbe ora una cordata italiana con rappresentanza non indifferente di soci toscani. La situazione dovrebbe sbloccarsi a stretto giro. Massimo Giove ha confermato ancora una volta il suo disimpegno, non ha intenzione di tornare a finanziare la società e dopo oltre due mesi dalle dimissioni è pronto anche a farsi da parte, questa volta definitivamente. In forte bilico, le figure di Carmine Gautieri e Fabrizio Lucchesi, che a breve potrebbero salutare la città dei Due Mari. Circolano con insistenza diversi nomi. Le redini dell'area tecnica verrebbero assunte da Pier Giuseppe Sapio, al momento responsabile del settore giovanile del Taranto, nomina tuttavia mai ratificata. Mentre il presunto nuovo tecnico avrebbe già assistito in presenza alla sfida dello Zaccheria di Foggia di venerdì scorso. Bisogna accelerare a metà ottobre e in programma la prima scadenza federale della stagione in corso ed essere inadempienti significherebbe ricevere un'ulteriore penalizzazione dopo quella che puntuale arriverà giovedì pomeriggio a seguito della discussione del deferimento. Sarebbe il colpo del definitivo KO per un Taranto già ridotto ai minimi termini.